Ciao Troe, sono Tea, scrittrice e Troe Radicale. Oh, e risponderò alle questions. Meglio ricco o Rocco? Ah, Rocco quello con il cazzo? Cazzo, Rocco. La cosa più strana o folle che hai comprato? Io compro così tante cose inutili, aspetta. Folle vuol dire crazy. Io ho comprato queste YSL Hills con il primo check grande che ho ricevuto dal mio libro. E' folle perché hanno un tacco di Hillary Clinton, quindi mi sembro un po' housewife. Fai un appello ai tuoi haters. Ciao Beppe, ciao Corriere, ciao haters. Mi dispiace che non scopate da tanto 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 tempo. Se avete bisogno di aiuto in quel settore, potete guardare le mie vecchie Collins di Vice Italia o potete semplicemente andare a fare in cool. Ciao, ciao. Qual è la ricetta che ti riesce meglio? Patatine da un sacchetto messe dentro prosecco. È una roba molto chic. O invece per un drink, spritz radicale che è un cetriolo dentro da un bicchiere di capaniello freddo. Imita un personaggio di Baby. Ah, diventare, diventarla. A few moments later. I'll change actually. Allora. Ludo. Faccio puttana. La puttana per bene. Guarda, che cazzo dici? Faccio la puttana cattiva. Andiamo a farla puttana. Qual è il tuo sogno erotico proibito? Il mio sogno proibito? I mean, il mio sogno più grande che sarà proibito è che io voglio che ogni chiesa diventa sacrilegia. Si dice sacrilegia? Sacrilega? Che ogni chiesa diventa sacrilega e che ogni chiesa si apre per un posto da festa. Che invece del prete c'è la disco ball, you know? E invece delle suore ci sono DJs e go-go dancers. Quello è il mio sogno. Ci canti una canzone? Let's all say ciao Troye. I'm Thea. I'm a Troye Brava. Drinking Tonello in my new Margiela. I got Winkle with my mama and a Rose Tattoo. Just ate a jar of pickles now. I gotta go poo. Let's all say ciao Troye. Girls and gays, God loves Troye. Ciao Troye. Ciao Troye.